Era un bambino Andrea quando la guerra ha sconvolto la vita della sua famiglia. Originari della Polonia si ritrovarono nel bel mezzo dell'occupazione del paese i cui confini furono spartiti fra Germania nazista e Unione Sovietica dalle bombe e lui da solo con la mamma dovette fuggire. Ci siamo trovati invasi dalla parte est, dalle truppe russe, ma prima delle truppe russe venivano le truppe ucraine. Fugga, cose inaudite, mia madre su un ponte pochi chilometri fuori da Leopoli si trova in questa situazione, questa marea di umanità. Non è però l'unica fuga, a sei anni mentre infuria il conflitto Andrea è di nuovo costretto a scappare una storia incredibile da Leopoli a Varsavia, un chiodo nella scarpa gli trafigge il piede ma la marcia per la salvezza nella notte non può aspettare. Io ho 83 anni e io della fuga ricordo due cose. Inciampare nel bosco tra la Polonia e la Cecoslovacchia dove c'era assolutamente silenzio e ho sbattuto la testa e ho tentato di cominciare a piangere e mi hanno soffocato per il silenzio perché c'erano le guardie e ricordo questo e il chiodo nella scarpa mamma non ce la faccio e mia madre mi diceva Andrea sei troppo grande non posso prenderti più in braccio devi sopportare e cammina. Impressionante il racconto di quelle interminabili ore trascorse sotto le bombe. Prima di tutto le preghiere di mia madre mia madre posso dire che pregava una grande parte della giornata l'altra cosa procurarsi qualche tipo di cibo dove come non lo so è cercare di proteggermi come credo che fanno tutte queste povere madri che scappano dall'Ucraina oggi. I suoi occhi perciò non riescono a sopportare l'orrore di oggi l'amarezza più grande è constatare che la storia si ripete senza aver lasciato una lezione agli uomini. Io ho visto persone morte per strada io ho visto un carro armato un cingolato passare sopra una donna morente che l'ha quasi tagliata in metà. Queste sono cose che uno non dimentica mai. E vedendo questo che sta succedendo io dico ecco io questo l'ho visto e non potevo mai immaginare di rivedere una cosa simile.